Il baseball giocato è ancora al di là da venire, soprattutto per quanto riguarda il baseball americano. La MLB ha ufficialmente rimandato l'opening day, ma c'è comunque una notizia importante di cui parleremo in questo video. Ai microfoni Matthew Thorgar parliamo dei Boston Red Sox e approfondiamo il caso di Chris Sale. Chris Sale, uno dei lanciatori più importanti per il quale la squadra campione MLB nel 2018 ha fatto un investimento clamoroso, di cui tra poco vedremo le cifre, Chris Sale sarà uno dei lanciatori che non vedremo nella stagione 2020 perché come leggiamo dal titolo tratto dall'articolo di MLB.com, Chris Sale dovrà sottoporsi all'intervento della Tommy John Surgery, ovvero un'operazione al gomito che tendenzialmente coinvolge principalmente i lanciatori. È un'operazione che di fatto va a ricostruire i legamenti del gomito e ha un tempo di recupero clamoroso. Chris Sale pare che dovrebbe tornare nel giugno-luglio 2021, quindi non solo perderà tutta la stagione 2020, ma perderà anche parte della stagione 2021, i primi due mesi di stagione regolare. Qui Chris Sale lo vediamo impegnato nello spring training prima che venisse ovviamente sospeso dai decreti del commissioner dell'MLB e adesso c'è un po' da riflettere come reagiranno i Boston Red Sox a questa perita, una perita per infortunio. E tra l'altro non è la prima che vediamo in questa off-season, anche due lanciatori degli Yankees, ovvero James Paxton e Luis Severino, saranno sottoposti a questa operazione che appunto va a interessare i legamenti del gomito del lanciatore. In questo caso Chris Sale è un lanciatore mancino e dunque si va a coinvolgere il braccio con il quale il lanciatore va appunto a eseguire il movimento. La notizia è stata riportata in questo caso da Ian Brown e anche tramite i vari profili ufficiali dei Boston Red Sox, profilo che appunto ha annunciato il 19, quindi ieri, l'operazione ufficiale di Chris Sale. Un'operazione che di fatto va a privare il monte di lancio dei Boston Red Sox di un pezzo veramente pregiato. Chris Sale per la cronaca non viene da una stagione incredibile, vedremo poi le statistiche più in là. è comunque un lanciatore che ha vinto il titolo con i Red Sox nel 2018, ha fatto gli anni migliori della carriera sicuramente quando ha vinto il titolo con Boston, ma soprattutto ha i Chicago White Sox squadra che di fatto lo ha lanciato fino appunto ad avere il contratto che ha adesso con i Boston Red Sox. Tra l'altro Chris Sale era entrato nel rinnovo del contratto l'anno scorso, un contratto che per i cinque anni, a partire dal 2019, gli avrebbe garantito un complessivo di 145 milioni di dollari. Un anno evidentemente andrà perso appunto perché, come dicevo prima, nella migliore delle ipotesi, come dice l'articolo, i Red Sox potranno avere indietro Chris Sale nel giugno e luglio 2021, quando potrà tornare a lanciare. Bisogna vedere ovviamente poi in quel contesto in che stato e a che livelli tornerà il numero 41. Numero 41, che appunto vi dicevo, e qui appelliamo a Baseball Reference per tutte le statistiche del caso, non veniva dalla stagione più gloriosa della carriera, perché nel 2019, quando appunto ha lanciato con i Boston Red Sox, ha vinto sei partite, ne ha perso 11, ha avuto una media di punti guadagnati sul lanciatore di 4,40, che è molto alto, considerato che nel 2018, quando ha vinto il titolo, ha dimostrato di avere dei numeri del lanciatore da Sayang Award, quindi con appunto le prestazioni mostruose di un lanciatore ad altissimo livello, e lo vediamo qui, perché nel 2018, 12 vittorie, 4 sconfitte, 2 e 11 di media PGL, quindi delle statistiche incredibili, che appunto gli è valso appunto il Sayang Award, che è appunto il premio che la Federazione del Baseball americana conferisce al miglior lanciatore, in questo caso della Conference American League. Quindi, Sayang doveva riscattarsi da una stagione del 2020 veramente orrenda, stagione in realtà 2019, e doveva arrivare appunto al 2020 con lo slancio di tornare ai Li-Relli, che l'hanno visto protagonista, nei Chicago White Sox, e soprattutto nell'anno del titolo con i Boston Red Sox. Ai Chicago White Sox, di fatto, Chris Sayang era l'unico che tirava avanti la baracca, a Chicago White Sox, come sappiamo, sono una squadra veramente nella terra di nessuno da anni, e cercano in qualche modo di ricostruire. Chris Sayang era arrivato a Boston, appunto tramite uno scambio che ha portato tra gli altri Ioan Moncada a Chicago, Sponda White Sox, fresco contratto di rinnovo Ioan Moncada, e come dicevo appunto Chris Sayang aveva conferito una sorta di contratto nuovo da 15 milioni all'anno per 5 anni, insomma una cifra importantissima che il management dei Boston Red Sox aveva offerto al numero 41 per fare, diciamo, il nuovo numero 1 della rotazione è considerato anche le mosse di mercato che ha fatto la formazione di Boston, perché appunto, come ho già detto nel video scorso della presentazione della MLB, Boston ha ceduto ai Los Angeles Dodgers sia Mookie Betts, esterno destro, molto talentoso e molto forte, sia David Price, uno dei lanciatori comunque importanti, almeno di palmarès, e Chris Sayle ha considerato che è andato via anche Rick Porcello ai New York Mets poteva essere sicuramente il potenziale numero 1, il potenziale leader di una rotazione dei partenti di Boston che doveva comunque sgattarsi e dunque per la formazione del Massachusetts piove sul bagnato perché non solo è stata coinvolta nel famoso scandalo dei segnali rubati di cui ho parlato sempre in questo canale, non solo ha dovuto cambiare allenatore prendendo un coach a interim, ovvero Ron Roenighi, al posto di Alex Cora di colpo si ritrova senza il suo lanciatore migliore che dovrà sottoporsi alla Tommy John questa operazione che appunto li torrà fuori per almeno un anno, se va bene e quindi l'interrogativo, e qui analizziamo il roster dei lanciatori attivi in questo momento della formazione dei Boston Red Sox è chi sarà il nuovo partente per la ragione che verrà nel senso che qualche lanciatore discreto c'è non c'è più quel fenomeno che poteva probabilmente sorreggere una partita di Monti di lancio da solo è una bella domanda perché alcuni partenti potrebbe essere probabilmente McHugh preso nel frattempo del mercato anche se garanzie non ce ne sono potrebbe essere sicuramente Nathan Ovaldi uno di questi è il lanciatore col passato tra le altre dei New York Yankees A-Rod, Eduardo Rodriguez potrebbe essere sicuramente un partente su cui puntare probabilmente A-Rod potrebbe essere lui il numero uno de facto, visto che Chris Sale è andato via è abbastanza un rebus quello dei Boston Red Sox che appunto avevano costruito una squadra che doveva comunque riscattarsi in generale con la qualità di Chris Sale la stagione potrebbe essere un po' ridimensionata e vedendo un po' il roster del Monte Partenti probabilmente il reparto dei lanciatori partenti sarà da rinforzare sul parco rilievi bene o male ci siamo ancora però sarà importante capire come i Red Sox riusciranno a costruire un Monte di Lancio da nuovo perché non c'è Chris Sale e i nomi che ho fatto prima quindi Eovaldi, Rodriguez, McHugh e tutti gli altri di certo non sono all'altezza di un lanciatore che comunque ha avuto una stagione buca, ovvero il 2019 ma ha altre stagioni veramente di livello insomma Chris Sale è una grave perdita per i Boston Red Sox che come obiettivo avranno sicuramente quello di tornare ai playoff vedremo se la dirigenza andrà sul mercato o considererà la stagione 2020 quando partirà ovviamente una stagione di transizione in vista del 2021 è un bel rebus se qualche tifoso dei Boston Red Sox guardasse questo video sarei curioso se loro appunto mi dicessero quale potrebbe essere una rotazione efficace quantomeno per questa stagione considerato la di partita di Chris Sale e nel caso quali potrebbero essere secondo voi i colpi di mercato che la dirigenza del Massachusetts dovrebbe fare ricapitoliamo comunque prima di chiudere questo video lampo Chris Sale non parteciperà alla stagione 2020 dei Boston Red Sox perché come dicevamo e lo recuperiamo dall'articolo di MLB.com dovrà sottoporsi all'operazione della Tommy John ovvero una ricostruzione dei legamenti del gomito in questo caso il gomito sinistro che di fatto coinvolge il braccio con cui lancia Chris Sale i tempi di recupero sono eterni è un'operazione che coinvolgerà un anno se non di più di recupero molto spesso o in alcuni casi comunque il lanciatore una volta che esce dalla Tommy John Surgery e recupera al 100% le sue funzionalità da lanciatore si sono notati dei miglioramenti quindi speriamo che anche per Chris Sale possa essere di buon auspicio questo stop forzato di un anno appunto con la Tommy John Surgery dunque fatemi sapere cosa ne pensate è un grave colpo imperita per i Boston Red Sox fatemi sapere anche se secondo voi questa squadra si risolleverà già in questa stagione o dovrà puntare per forza di cose nella stagione successiva ancora quindi il 2021 il saluto da parte di Matthew Dorgard e ci vediamo dunque al prossimo video Grazie a tutti